9 milioni di euro per le scuole della provincia di Lucca, dal piano scuole sicure del governo. Lo hanno annunciato i parlamentari Mariani e Marcucci. Vediamo nell'ordine quali sono i finanziamenti e gli interventi previsti. I lavori maggiormente onerosi sono previsti a Coreglia per la nuova costruzione della scuola primaria e secondaria di Ghivizzano, costo un milione e mezzo. Poi c'è la demolizione e ricostruzione della palestra per le scuole di infanzia e primaria a Fornoli di Bagni di Lucca, un milione e duecentomila euro. Seguono la ristrutturazione della primaria di Barga e delle scuole dell'infanzia e primaria di Piazza Alzerchio, settecentomila euro. La primaria Lorenzini di Alto Pascio, nuova costruzione, seicentocinquantamila euro. E la ristrutturazione della primaria del Fiorentino a Capannori, seicentomila euro. Ci sono però altri interventi di ristrutturazione o manutenzione straordinaria. Vediamoli. Alla primaria Nottolini di Capannori e alla primaria Boccherini sempre di Capannori. Poi alla scuola di infanzia a Valdottavo a Borgo a Mozzano, alla primaria Ricci di Pietrasanta, alla scuola di infanzia a Marconi a Monte Carlo, alla scuola di infanzia e secondaria di Gramolazzo a Minucciano, alla secondaria di Forte dei Marmi, alla primaria Castelnuovo di Castelnuovo Garfagnana e alla scuola secondaria PEA di Porcari.